Ciao a tutti carissimi dal doc siamo tornati con un livello diciamo base tra virgolette abbiamo un circuito eccolo qua pieno di resistenze 1 2 3 4 5 6 come sempre come direbbe piccinini ammucchiati in area di resistenze allora dunque risolviamo il circuito dobbiamo capire la resistenza totale di questo circuito e la corrente che lo attraversa quindi spero che questo esercizio vi possa essere utile allora dunque va bene l'immagine potete vedere in bassa destra vedete non so se vedete il mouse le foto di alcune resistenze ma che potete facilmente guardare facendo una ricerca su google allora dunque qua vedete due circuiti in realtà questo sarà come posso dire il circuito che andremo poi a calcolare perché allora questo il circuito dobbiamo andarlo un po' a semplificare quindi ad esempio vediamo qua che abbiamo queste due resistenze allora innanzitutto quando semplifichiamo io spesso faccio una cosa di questo tipo cerco un attimo di capire i punti in cui le resistenze sono collegate ad esempio questo punto qua è in comune con questo cioè questa resistenza vedete qua e qua è in comune con questa che è qua e il cavetto è qua quindi come che fossero insieme ecco qua allora detto ciò noi cosa facciamo noi le mettiamo in parallelo da così questa resistenza mi diventa vediamo un attimo mi diventa così vedete così allora il calcolo della resistenza è il seguente allora 20 ohm e 80 ohm quindi 80 parallelo 20 vi risparmio il calcolo che sarebbe 80 per 20 diviso 100 e diventa 16 ohm eccolo qua quindi andiamo già a metterlo questa resistenza qua e da 16 ohm perché le unisco e mi viene questa qua dopo altro calcolo da fare noi andiamo a unire queste due resistenze qua in parallelo vedete sono come insieme hanno lo stesso punto quindi quella da 6 quella da 12 mi vanno appunto in parallelo e quindi quella parallelo da 6 in parallelo con quella da 12 il risultato è 6 per 12 diviso 6 più 12 il risultato è 4 ohm e andiamo a scriverlo qua 4 ohm eccolo qua magari giusto così per info questo qua in marroncino lo evidenziamo qua e qua questo qua lo andiamo a evidenziare in viola il 6 il 12 sono questo e questo ecco qua giusto per diciamo dare un spostiamo un attimo così si vede meglio ecco giusto per dare un attimo un tocco dopo il 60 ohm che abbiamo qua magari li spostiamo un attimo e li mettiamo qua così si vedono un pochino meglio spostiamo magari qua l'immaginina sì così vedete la cosa vediamo se ma forse viene una schifezza ma spero che vediate bene la cosa dopo qua abbiamo i 5 ohm qua intanto nel frattempo ho rovesciato tutto e ci sta chiaramente non taglio perché me ne sbatto ma so che a voi piace così cioè piace così piace così a me quindi spero che anche voi allora torniamo a noi allora 5 ohm e lo andiamo a mettere qua il bello della diretta e poi dopo qua sono 15 ohm che sono gli ohm che ho qua vedete che ho rimesso qua dopo dobbiamo andare a calcolare la resistenza totale di questo circuito quindi innanzitutto possiamo vedere che questa resistenza qua è quella da 60 ohm è in parallelo con queste due qua che sono in serie quindi cosa dobbiamo fare dobbiamo fare un parallelo tra i 60 in parallelo con 16 più 4 magari giusto per così facciamo il calcolo che 60 per 20 diviso 60 più 20 che diventa uguale a 15 ohm ecco qua 15 ohm quindi io qua ottengo un una resistenza diciamo da 15 ohm una resistenza totale del circuito quindi vediamo se ok spostiamo qua ok la resistenza totale del circuito quindi r tot sarà uguale ai 5 ohm che ho qua quindi 5 più perché qua va il cavo i 15 che ho i 15 che ho i 15 che ho qua e i 15 che ho qua quelli che ho calcolato qua in sostanza quindi 15 in parallelo con i 15 magari lo evidenziamo di due colori diversi perché questo 15 è il 15 che ho qua mentre questo 15 è il 15 che ho calcolato prima e quindi è la somma diciamo di tutto questo qua vedete spero che con questi colori tutto sia più chiaro facendo il calcolo quindi facendo 5 più 15 per 15 diviso 15 più 15 il risultato che ottengo è 12,5 ohm che è la resistenza totale del circuito quindi questa è la resistenza totale l'altra cosa invece che adesso andiamo a calcolare è quanta corrente circola in questo circuito vedete da qua allora la corrente che circola quindi 0 è uguale a 40 ricordo sempre che i è uguale a v fratto r quindi la corrente che circola nel circuito è uguale a 40 fratto la resistenza totale del circuito che è 12,5 quindi in questo circuito ci sono 3,2 ampere eccoli qua lo scriviamo qua come sempre facciamo adesso dall'alto postiamo il coso eccolo qua dall'elicottero vediamo com'era la risoluzione spero che sia stato di aiuto questo esercizio e alla prossima dal doc con altri bellissime cose ciao gari